Ben trovati mercoledì 8 luglio 2020, nuova edizione del Tg di Cilento Channel. Apriamo con Agropoli, domani è una giornata importante per la città, naturalmente come sapete ci sarà l'inaugurazione dell'ospedale di Agropoli, ormai è ufficiale alle ore 10 il taglio del nastro per l'apertura del nosocommio. A presenziare alla cerimonia, oltre al sindaco di Agropoli Adamo Coppola, al sindaco di Capaccio Pestumo Franco Alfieri, anche il governatore della Campania Vincenzo De Luca. E dunque quasi 2 milioni di euro sono stati spesi nella struttura ospedaliera che allo stato attuale avrà a disposizione un pronto soccorso attivo H24 con relativi laboratori di analisi e radiologia. Due sale operatorie, ci sarà la possibilità del day surgery e la possibilità di fare in loco piccoli interventi, 6 posti letto con reparto di terapia intensiva e altri 29 per il reparto Covid. Quello che resta da sapere con certezza è se le ambulanze del 118 fermeranno presso il nosocomio agropolese appunto. L'appuntamento dunque è per domani mattina alle ore 10. Rimaniamo ancora sullo stesso argomento, la sanità, bando di concorso del 118, il corpo di soccorso Humanitas non ha partecipato alla gara. Vediamo il servizio. L'associazione di volontariato Humanitas si dice non convinta del bando per l'affidamento del servizio di emergenza del 118 dell'ASL e ha deciso di non essere presente al bando. Stavolta non ci saremo, nonostante il possesso dei livelli più alti per ogni requisito richiesto, abbiamo deciso di non partecipare ad una gara che non convince in più di qualche aspetto. E' quanto dichiarato dal presidente dell'associazione di volontariato Humanitas, Roberto Schiavone di Favignana, la guida dell'associazione in merito al nuovo bando dell'ASL per l'assegnazione del servizio di emergenza del 118. Pur prendendo atto e rispettando la pronuncia del TAR, certo non biasiveremo chiunque da legittimo portatore di interesse intendesse eventualmente ricorrere al Consiglio di Stato, ha anche aggiunto il presidente Schiavone. Dopo 37 anni, Humanitas, che ha contribuito a distituire la centrale di soccorso a Salerno, lascerà dunque il campo ad altri, decidendo di stare fuori da una dinamica e da un contesto che non le appartengono, si legge in una nota. Ma nessuna preoccupazione, aggiunge lo stesso presidente Schiavone. La cittadinanza potrà comunque contare su un'associazione ancora più forte nel trasporto infermi e nell'assistenza ai disabili. Da pochi giorni, Humanitas ha anche lanciato il servizio pronto medico a domicilio. Lo scorso bando anche per l'affidamento del 118 finì in un vespaio di polemiche tra i contestatori il sindaco di Baronissi Gianfranco Valeante, che lo ritenne discriminatorio nei confronti della Valle dell'Irno. Restiamo ancora ad Agropoli e cambiamo argomento. Scarcerato il signor Piccariello. Restiamo appunto nell'ambito della città di Agropoli. Andrea Piccariello, l'uomo che era stato accusato di violenza carnale su una minore, è stato scarcerato. A sporgere denuncia, diversi mesi fa furono i familiari della ragazza. La decisione è stata presa al termine dell'udienza in Camera di Consiglio da parte del GIP Pietro Indinimeo. Andrea Piccariello fu arrestato nell'inverno scorso dai carabinieri della Compagnia di Agropoli, diretta dal capitano Fabiola Garello, con l'accusa di violenza carnale su minore. E parliamo adesso dell'operazione Two Tower. Gli investigatori della sezione antidroga della squadra mobile di Potenza e Salerno, coadiuvati dagli investigatori della squadra mobile di Vicenza e di Caserta, all'alba di oggi hanno eseguito nelle province di Salerno, Vicenza e Caserta, un'ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari emessa su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Salerno dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Salerno nei confronti di cinque indagati, ritenuti responsabili a vario titolo di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Dunque le investigazioni iniziate la sera del 27 di agosto 2015 a seguito di un intervento per overdose su un giovane tossico dipendente potentino nella centralissima via Due Torri di Potenza, da cui il nome dell'operazione. Hanno consentito dunque di ricostruire gli illeciti affari di un sodalizio criminale il cui centro decisionale di coordinamento si radicava nella città di Salerno, capeggiato da Romano Gaetano e costituito da soggetti in parte uniti da legami di parentela che si riforniva principalmente da un cittadino di origine nigeriana e dimorante nella città di Aversa. Il sodalizio aveva esteso il raggio di azione nella città di Salerno, battivaglia, Bellizzi e Capaccio, nonché nella città di Potenza e in quest'ultima provincia, in particolare nei pressi degli svincoli autostradali di Balvano e Picerno. E parliamo adesso di politica. Il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Agropoli, Mario Pesca, ha richiesto tramite un'interrogazione comunale rivolta al sindaco Adamo Coppola quale fosse il motivo per il quale i cosiddetti progetti utili alla collettività dedicati ai percettori del reddito di cittadinanza non fossero già stati avviati da parte dell'amministrazione. Nella città di Agropoli sono numerose le persone che percepiscono il reddito con la possibilità di impegnarsi per la propria città in attività utili alla collettività, specialmente in questo periodo estivo di forte affluenza turistica e purtroppo di caos generato dalla scarsa organizzazione della città stessa. L'attivazione di progetti civici che mirino alla tutela e alla promozione dei beni comuni avrebbe un impatto positivo sulla vivibilità della città. Oltre all'interrogazione sul PUC, il consigliere comunale Mario Pesca ha annunciato di preparare altre interrogazioni su tematiche altrettanto importanti tra i quali la Posidonia Oceanica e saranno discusse nel prossimo consiglio comunale di Agropoli previsto martedì 14 luglio. Ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità, rimanete con noi a tra poco. Prendersi cura di te è un'ambizione sana. Vai sul sito letisanedizara.com e scegli tra i tanti prodotti disponibili. Facebook Letisane di Zara, info 333 90 26 266. Da oggi puoi prenotare online su www.bccbcc.it una videoconsulenza che ti consente di dialogare con la tua banca ed evitare di recarti in filiale. Usa Relax Banking per l'operatività sul tuo conto corrente H24 Centro Polifunzionale Elysium Piscina semiolimpionica Palestra, centro fitness con attrezzi di ultima generazione Pizzeria con ingredienti genuini e selezionati Sala bar Centro Polifunzionale Elysium Via lento Agropoli Salerno Info at elysium4u.it Risarcimenti Italia Dal 1995 al fianco di chi ha subito un danno Aiutiamo e tuteliamo i nostri clienti per fargli ottenere in tempi rapidi il risarcimento al quale hanno diritto Risarcimenti Italia, via Mattine 5, Centro Le Torri, Agropoli Salerno Villa Franca, a Domignano Scalo Per consentire a persone anziane di vivere in un ambiente controllato e protetto Assistenza sanitaria 24 ore su 24 Svolta da infermieri professionali Villa Franca, via Cerreta 27, Omignano Salerno Il gruppo Riflessi con esperienza ventennale nell'abbigliamento e la profumeria Vi invita a visitare la nuova sede in via Mattine ad Agropoli Abbigliamento uomo-donna per tutte le taglie Profumeria fornitissima delle più grandi firme Gruppo Riflessi Abbigliamento e profumeria Via Mattine, Agropoli Prodotti locali e nazionali di qualità E a prezzi molto convenienti Non è una favola per bambini È MD MD Passione, tradizione e competenza Buona spesa Italia Bene, rieccoci di nuovo in onda Riprendiamo con le notizie del telegiornale Sempre ad Agropoli Ieri mattina nella sala giunta del comune di Agropoli Appunto si è svolto un incontro di programmazione Per l'apertura del nuovo anno scolastico 2020-2021 Sono state definite le linee di azione Per un'apertura degli istituti scolastici In piena sicurezza Nel rispetto delle prescrizioni Legate all'emergenza Covid-19 Erano presenti Bruno Bonfrisco Dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Gino Rossivairo Margherita Baldi Dirigente scolastica del primo circolo didattico di Agropoli Carmela Maria Verrelli Dirigente scolastico dell'istituto comprensivo San Marco Il sindaco Adamo Coppola L'assessore alla manutenzione scolastica Gerardo Santosuosso Il consigliere comunale con delega Alla pubblica istruzione Francesco Crispino L'ingegnere Agostino Sica Funzionario dell'area lavori pubblici Tecnico manutentiva Porto e De Manio Riprendono le attività dell'antiquarium comunale A cura dell'associazione Pescatori e Archeonautilus Naturalmente tutto questo accade a Castellabate Che dopo il Castello dell'Abbate Riapre anche l'antiquarium comunale L'importante struttura è stita nella frazione Santa Maria Sul lungomare De Simone Resterà aperto dalle 22.30 a mezzanotte e mezza Per tutti i fine settimana di luglio e agosto All'interno si potranno ammirare le anfore E le ancore recuperate in mare E trasportate dalle navi onerarie romane Ormeggiate e transitate nella baia di Castellabate I visitatori potranno ricevere informazioni Sulla storia di Castellabate Sul patrimonio archeologico e paesaggistico Sulla pesca tradizionale e sulla fauna ittica tipica Il vice sindaco Luisa Maiuri Dichiara in merito alla riapertura Che l'antiquarium rappresenta da sempre Un punto di riferimento di grande valenza Per turisti appassionati del mare Attraverso il quale intende l'amministrazione Valorizzare il patrimonio culturale storico subacqueo Grazie alle lodevoli attività informative Organizzate da due valide rappresentanti Dell'associazione locale Ritorniamo adesso ad Agropoli La città si conferma città che legge Anche per il biennio 2020-2021 Agropoli è tra i 258 comuni italiani Con una popolazione compresa tra i 15.000 e i 50.000 abitanti A potersi freggiare di tale titolo Appunto già città del libro Agropoli dal 2017 Continua a confermare tale importante riconoscimento Grazie al costante e incessante impegno Profuso nella promozione della lettura del libro Con una serie di iniziative che si sono susseguite negli anni Quale ad esempio il maggio dei libri Giornate di lettura nelle scuole Prima tra tutte la rassegna letteraria Settembre culturale Giunta quest'anno alla 13esima edizione La giunta guidata dal sindaco Adamo Coppola Ha approvato anche il patto per la lettura Attraverso apposito atto di giunta Il patto per la lettura è uno strumento Che ha come obiettivo la creazione di una rete Tra tutti i protagonisti della filiera culturale In particolare del libro su un dato territorio L'intento è di riconoscere e sostenere La crescita socio-culturale Attraverso la diffusione della lettura Come valore riconosciuto e condiviso In grado di influenzare positivamente La qualità della vita individuale e collettiva E di rendere il libro e la lettura Un'abitudine sociale E adesso parliamo di solidarietà Giovanni D'Avenia ha acquistato nuove mascherine Grazie al successo di crowdfunding Lanciato dal centro studi Super Sud Ci sono naturalmente delle ottime iniziative In merito nella difficile battaglia Contro il contagio da coronavirus Ogni contributo fatto con entusiasmo Ha un valore enorme Ne è la prova di crowdfunding Appunto lanciato dal centro studi Super Sud Che ha raggiunto un importante traguardo Durante il periodo di lockdown Causato dalla pandemia Covid-19 L'associazione che da sempre lavora per il progresso del Sud Si è fatta promotrice di una raccolta fondi Da destinare all'acquisto di mascherine Che verranno consegnate alla Croce Rossa Alla Caritas E ad alcune parrocchie salernitane Al fine di contribuire Alla ripresa del paese In totale sicurezza Anche se il peggio è passato Ha detto Giovanni D'Avenia È giusto continuare ad essere attenti E contenere il più possibile Il rischio del contagio Covid-19 Per farlo abbiamo solo un'arma A nostra disposizione E sono appunto le mascherine Certo non rappresentano uno scudo Ma al di là dei comportamenti individuali Garantiscono una protezione dal virus E allora ci fermiamo ancora una volta Noi facciamo una pausa per la pubblicità E poi di nuovo con le notizie di Cilento Channel Fisiomedica Fisioterapia Rieducazione posturale globale Misura e prenotazione plantari ortopedici Ozonoterapia Tecar e laser terapia Elettroterapia antalgica Ecografie Visite specialistiche Fisiomedica Via Nitti 1 Agropoli Salerno Per ogni tua esigenza di spostamento Cilento Rent Noleggio auto, furgoni, scooter, biciclette, minibus da 7 e 9 posti Cilento Rent Ad Agropoli, Capaccio, Castellavate www.cilentorent.com Scegli BCC Aquara La tua banca vicina, affidabile, conveniente e cooperativa Da 42 anni al servizio di imprese e famiglie del territorio BCC di Aquara Sede amministrativa sulla strada statale 18 a Capaccio Pestum Letisane di Zara Prendersi cura di te è un'ambizione sana Vai sul sito letisanedizara.com E scegli tra i tanti prodotti disponibili Facebook Letisane di Zara Info 333 90 26 266 Focus Point fa la differenza Griff delle migliori marche Riparazione occhiali Pronta consegna occhiali graduati da vista e da sole Controllo gratuito della vista Centro applicazioni lenti a contatto Focus Point Via Alcide de Gasperi 22 Agropoli Salerno Santo Mauro Azienda leader nel settore dell'edilizia Con 2000 metri quadrati di showroom I pavimenti e rivestimenti delle migliori marche Basta scelta di arredo bagno Rubinetteria, igienici e accessori Santo Mauro Materiale per l'edilizia Capaccio Scalo Salerno Psicofisico Studio di nutrizione e benessere Dottor Andrea Ricci Biologo nutrizionista Si effettuano piani nutrizionali personalizzati Studio di nutrizione e benessere Dottor Andrea Ricci Pagina Facebook Studio nutrizione e benessere Convergenze Internet, phone, tv, energie E eccoci per la parte finale del nostro notiziario Adesso vediamo un servizio nel ballo di Diano Dedicato a Luigi Curto di Polla Che è stato luogo in cui è vissuto un grande gesto d'amore e di speranza Vediamo Dal dramma e dal dolore racconto di una vita che riparte Nella serata di ieri l'ospedale Luigi Curto di Polla è stato luogo in cui si è vissuto un grande gesto d'amore e di speranza Arrivato da una famiglia ferita e distrutta dalla notizia drammatica della morte della persona cara Ma tra le lacrime e la sofferenza I figli hanno avuto la forza di autorizzare la donazione delle corne Che consentirà ad un'altra persona di aprirsi alla vita e ad aprire quindi gli occhi al mondo Un gesto che la dottoressa Gallo ha commentato evidenziando innanzitutto la straordinaria forza dei figli Che in un momento così delicato e difficile hanno voluto aprirsi alla solidarietà L'intervento di prelievo delle corne è stato eseguito dal dottor Gagliardi Appartenente all'equip del dottor Alfonso Pellegrino responsabile del reparto di oculistica del Luigi Curto Assistito dalla dottoressa Maria Teresa Gallo Un gesto che si spera possa far capire quanto importante possa essere la donazione degli organi Gesti di grande solidarietà e amore che consentono di ridare vita a chi ci ha lasciato e a chi soffre Ed in molti casi senza molte speranze di vita L'ospedale Luigi Curto di Polla e il Vallo di Diano si avviano così ad essere individuati Come presidio ospedaliero e territorio di immensa generosità e capace di grandi atti d'amore Non a caso il presidio ospedaliero ha individuato al suo interno la figura della coordinatrice per la campagna di donazione degli organi Il Comune di Piaggine riparte dal turismo sostenibile e lo fa con una serie di iniziative compatibili con il Covid-19 L'amministrazione comunale ha predisposto l'allestimento di una ciclo-officina per arricchire e completare con servizi adeguati L'accoglienza del turismo ciclo-amatoriale Implementando negli ultimi mesi da un progetto più ampio e strutturato con l'ingresso del piccolo borgo cilentano Tra i comuni ciclabili A stanza adesso per la Madonna della Neve Vediamo il servizio dei collaboratori del Vallo di Diano L'arrivo del mese di luglio è per i sensesi anche periodo di preparazione alle celebrazioni in onore di Maria Santissima della Neve Con la salita della statua della Madonna del Cervati verso la Cappella in Vetta il 26 luglio ed il successivo rientro in paese il 5 agosto Un rito che in questo strano 2020 potrebbe non tenersi in virtù delle decisioni assunte dal governo E recepite dalla CEI e dalla Diocesi di Tegiano Policastro Che in riferimento alle feste patronali e alle processioni Attendono interpretazioni più soddisfacenti del decreto del Ministero Sulle modalità di svolgimento delle processioni religiose Soprattutto in ordine alla sicurezza sanitaria e all'attribuzione delle responsabilità Pertanto processioni e feste patronali Peraltro già non consentite dalle attuali prescrizioni del governo Sono sospese fino a nuove disposizioni Una decisione che crea malcontento tra i sanzesi consci che con il trascorrere dei secoli Nulla ha affermato l'affascinante rito parte integrante dell'antropologia della società meridionale Legato al culto della Madonna della Neve Neanche le guerre e la pandemia della Spagnola Siamo pronti ad ogni intervento utile a garanzie delle norme di sicurezza anti-Covid Dichiaro Esposito Ci faremo carico dell'effettuazione dei tamponi a tutti i marunnari Se necessario predisporremo un servizio d'ordine con l'ausilio della protezione civile E dei confratelli dell'antica Arci Confraternita Ma la Madonna del Cervati deve essere portata in vette il 26 luglio E riportata in paese il 5 agosto Sono sempre stato rispettoso delle leggi Continua Esposito Ma la legge non può non tener conto che l'ascesa al Monte Cervati è all'aria aperta Con spazi che consentono il distanziamento Così come non può non tener conto della sensibilità e dell'intelligenza dei miei concittadini Che ben sanno quali comportamenti assumere pur di non diffondere il virus Che tra l'altro, va ricordato, qui non c'è per fortuna Faccio appello, continua il sindaco A Monsignor Antonio De Luca A comprendere ed autorizzare l'ascesa al Cervati della Madonna della Neve Nel contempo informeremo il prefetto di Salerno Illustrando per chiarezza la situazione che non viole in alcun modo le norme Il popolo di Sansa, conclude Vittorio Esposito È un popolo maturo che saprà rispettare le norme Bene, era questa l'ultima notizia per quanto riguarda il TG di oggi Io vi ringrazio per averci seguito L'appuntamento rinnovato a una prossima edizione Arrivederci